Eccolo qua, San Gennaro c'è, San Gennaro c'è, ma il Napoli no. Ah, ecco, perfetto. Vediamo cosa succederà. È un po' stufo che l'ho tirato in ballo per cose un po' fatue, quindi non vi dà la mano. Hai capito? Aia! Aia, aia, va bene. Guarda che ho tirato una stoccata, eh. Allora, abbiamo fatto un'analisi sul Milan di questo momento e anche sul fatto che il Milan domani potrebbe andare a un punto dall'Inter. Via, Napoli! Napoli! Eccolo là! Grande Napoli! Passiamo in contatto! Passiamo in contatto! Prima della pubblicità! E ne stavi andando via, Fabio! No, 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 no! E invece eccoci qua! Gran course da parte di Maggio in area di rigore! Grande gol del Napoli! La mezzi, la mezzi! Passiamo in contatto! La mezzi, la mezzi! La mezzi che ci porta in vantaggio e rianima, rianima questa partita! Che bello! Come volevamo noi! Come volevamo noi! Che Napoli micchia dalla linea! Che succede? Era ricordo! Vai! Fabio! Fabio! Incredibile! Incredibile! Al tredicesimo minuto di gioco qui a Napoli, allo Stadio San Paolo, tutti siamo saltati dalle nostre postazioni! Napoli, la mezzi, ha rubato palla al centrocampo, è sceso in area di rigore, atterrato da un difensore fiorentino e l'arbitro non ha concesso il rigore! Dal nostro canto, dalla nostra visuale, sembrava rigore! Attenzione, Napoli! Pareggio della fiora! Napoli! No, no! Mamma mia! Hai visto che cosa ti avevo detto io, Fabio? Mamma mia! Ma perché è davvero diverso? Vai, fiume! Fiume in piena! Ma non è possibile, ma non è possibile No, ragazzi Ma non mi spostete pure voi, che fiume in piena? Questa è una cosa assurda, è una cosa assurda È una cosa assurda Gilardino ha segnato sul fuorigioco Ha segnato sul fuorigioco No, 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 fiume! Gli arbitri si sono guardati No, 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 no Attenzione Che sta succedendo? Attenzione, vai! Vai, vai, fiume! Mamma mia! Abbiamo visto la cosa più incredibile Su un campo di calcio di serie A Fiume Non è possibile, non è possibile È finita anche, è finita anche È finita anche Ma spiegiamo, fiume, spiegiamo È successo tutto quello che noi non ci aspettavamo È successo tutto quello che noi non ci aspettavamo Ragazzi, io per sciopero Vai Io per sciopero resterò qui allo Stadio San Paolo tutta la notte Va bene Non mi muovo da qui Non mi muovo da qui Va bene, grazie Claudio No, non esiste, non ci credo a questa cosa Ok Grazie Grazie Ciao Claudio E forza Napoli Vinceremo a Milano Vinceremo e non ci perderemo mai Recupereremo proprio contro il Milano Non ci preoccupare Dai super Grazie a tutti